Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di TechFanPage, io sono sempre del Regaliendo e oggi voglio parlare di un'applicazione per iOS che sto utilizzando da qualche giorno e che vi avverto non è adatta e più nostalgici. Si tratta di una vera e propria macchina del tempo per i social network che vi permetterà di vivere giornalmente tutti i post che avete pubblicato nella vostra storia completa nei diversi social network. Non solo Facebook, quindi e con un'interfaccia grafica veramente semplicissima, praticamente non c'è quasi nulla da fare se non avviare e osservare, l'applicazione vi permetterà di rivivere giornalmente i vostri post passati in quel determinato giorno. Per esempio se io l'avviassi oggi vedrei tutti i miei post passati nei vari social network che ho pubblicato comunque nella giornata di oggi, ovviamente degli anni passati. Se l'avviassi domani vedrei i post che io negli anni precedenti ho pubblicato domani, vabbè insomma il concetto è abbastanza contorto ma sono sicuro che voi avete capito perché siete il numero uno. Detto questo signori preparate i fazzolettini perché piangerete pensando al passato, io sono Dario Caliendo e vi do il benvenuto a una nuova videoguida di TechFanPage. L'applicazione della quale parliamo oggi si chiama TimeHop, è disponibile gratuitamente nell'App Store e come vi anticipavo è veramente molto semplice. Una volta installata l'applicazione per la prima volta quando si è via sarà necessario effettuare il login con il proprio account di Facebook, login dopo il quale sarà già praticamente possibile utilizzare l'app. Applicazione che permetterà di visualizzare i post passati anche dagli altri social network oltre Facebook, quindi anche Twitter, Instagram e Foursquare, oltre che ovviamente a visualizzare le immagini salvate nel proprio dispositivo o nel proprio account di Dropbox, ovviamente, valutandole in base alla data di realizzazione. Dopo aver aggiunto i propri social network preferiti e aver dato a TimeHop il tempo necessario per creare la propria timeline, il gioco è fatto. Non bisognerà far altro che scorrere verso il basso per andare indietro nel tempo e visualizzare i post passati nei diversi account. L'icona in alto a sinistra di ogni post ovviamente sarà a significare il social network nel quale è stato pubblicato quel determinato contenuto, mentre per quanto riguarda gli anni passati bisognerà visualizzare il testo scritto nella riga post in alto a sinistra, che appunto vi ricorderà quanto tempo fa è stato pubblicato il post che si sta visualizzando. Ma non finisce qui, con TimeHop è anche possibile condividere i propri post passati, per farlo è semplicemente necessario cliccare sul tasto share, selezionare il metodo di condivisione e poi pubblicare una breve descrizione che descriverà proprio il post che si sta a condividere. Io sono Dario Caliendo, questa è TimeHop, la vera macchina del tempo per i social network e vi mando un abbraccio. Grazie a tutti.